ragazzi buonasera a tutti eccomi qua con lei dietro che mi fa sempre fare il taxi dappertutto mi tocca scarrozzarla dappertutto guarda e quindi anche stasera mi tocca girare come tutti i giorni che si fa per le figlie e dice pure non è vero grazie e comunque ragazzi siamo quasi alla vigilia di natale domani è la vigilia di natale e io per fortuna domani non lavoro o più o meno devo andare a far solo una cosetta e basta quindi mi farò venerdì sabato e domenica che veramente la pace e niente voi cosa fate la vigilia di natale a natale vi metto quel box scrivetemelo ciao buongiorno amici buongiorno siamo qua a festeggiare la vigilia per ora buona vigilia a tutti buona vigilia a tutti e comunque volevo mi è arrivato qualcosa di carino mentre vi stanno le culate comunque volevo dirvi che mi è arrivato qualcosa veramente di buono grazie anche a lei che ho conosciuto questi grandi amici cioè l'avvocato antonucci e arturo arturo il papà di giuseppe giuseppe capitolino mi ha mandato vi faccio vedere questo me l'ha mandato l'olio direttamente dalla calabria arturo e questo bel panettone me l'ha mandato avvocato antonucci un abbraccio